Salve a tutti! Allora vi mostro come creare un nuovo cartello su questo tasto destra e andare a prendere la vostra Nuovo, andate su cartella e cliccate su cartella, automaticamente il sistema vi dà la scritta nuova cartella, cliccate su .vuto col tasto sinistro e la cartella è creata Se volete creare un'altra cartella, cliccate su cartella e cliccate su cartella Questo è il metodo molto molto semplice per creare le cartelle sul dashboard Ok, alla prossima lezione